Era il luglio 2013 quando ho cominciato a raccontare le vicende della comunità Il Fortetto. Oggi si è conclusa la commissione d'inchiesta della regione toscana sui fatti avvenuti all'interno della comunità Il Fortetto. Io ribadisco abusi sessuali durati anni e anni. Noi abbiamo presentato un disegno di legge per istituire una commissione d'inchiesta parlamentare perché vogliamo andare a fondo. Ed è la stessa conclusione a cui sono arrivati i membri della commissione d'inchiesta della regione toscana, commissariamento della cooperativa Il Fortetto perché è ancora coinvolta con le vittime e con i carnefici di questi fatti assurdi e atroci. E quindi io invito tutti i parlamentari toscani a farsi carico di questa commissione d'inchiesta parlamentare e a sottoscrivere il testo depositato a mia prima firma che è l'atto senato 2093 per mettere finalmente la parola fine a questa tragedia che ha colpito non solo le vittime ma tutti i cittadini toscani e italiani. Perché questa è una vera vergogna che è stata fatta in questo Paese. Quindi rinnovo l'invito ai parlamentari toscani di sottoscrivere il testo e di portarlo finalmente in commissione e istituire una commissione d'inchiesta per indagare veramente. Grazie.